Il centro Taekwondo Arezzo trova gloria tra le mura amiche e sale sul podio del torneo internazionale Tuscany Open. L'evento si è tenuto al palo sport Mario D'Agata di Arezzo e ha visto arrivare in città quasi 700 atleti di 102 società di 19 regioni e di 4 nazioni che si sono sfidati in un fine settimana di grandi combattimenti e grande spettacolo. In questo palcoscenico, davvero d'eccezione, si è messo in luce il centro Taekwondo Arezzo che nella seconda giornata di gara si è piazzato al secondo posto della classifica maschile dei cadetti e al terzo posto assoluto nella classifica generale risultando come la migliore tra le toscane venendo preceduta solo dagli abruzzesi del centro Taekwondo Celano e dai pugliesi del New Marshall Mesagne. Questo piazzamento conferma il settore giovanile degli Aretini come uno dei più promettenti d'Italia ed è frutto di un ricco medagliere che nell'arco del fine settimana ha visto la società festeggiare 13 medaglie con appena 15 atleti con 5 oghi, 3 argenti e 5 bronzi. Quasi tutti hanno mostrato le qualità per salire sul podio e hanno meritato applausi per la bravura nel combattere con alcune delle più spettacolari tecniche di Taekwondo. Diciamo che abbiamo raggiunto il massimo che potevamo fare quindi più soddisfatti di così non possiamo essere. Un piccolo rammarico per alcuni nostri atleti di punta che oggi hanno mancato la medaglia d'oro appena per un soffio, per qualche problemino di salute e quindi un piccolo rammarico per loro ma diciamo che a livello generale siamo molto molto soddisfatti della nostra società e dei nostri ragazzi.